Pagelle con i voti. Ma è roba vecchia. I giudizi c'erano anche negli anni venti. Lodevole, buono, sufficiente. Ricordo le vecchie pagelle di mia madre, classe 1921. Ricordo la bella scatola di legno lucido in cui erano conservate insieme a foto e documenti di altri tempi. Ricordo il mio stupore di fronte a quei giudizi espressi a parole e non con i numeri. E la mia mamma che mi spiegava che lodevole era più o meno come un nove, un dieci, che con un buono si stava sul sette e che un sufficiente corrispondeva a un sei. Erano pagelle della fine degli anni venti. Con buona pace di chi dice che oggi, con il ritorno ai voti, si fa un passo indietro di trent'anni. Usando lo stesso metro si potrebbe dire che con l'adduzione dei giudizi, negli anni settanta, si era tornati indietro addirittura di mezzo secolo, salvo poi a scoprire che, ancora prima, durante la Grande Guerra, le pagelle delle elementari riportavano voti numerici. Insomma, sono dei classici corsi e ricorsi storici delle istruzioni, che in certe cose assomigliano alla moda. Gonne corte, gonne lunghe, scarpe a punta, scarpe bombate, giusto per farti cambiare il guardaroba. Eppure c'è chi lancia un grido di allarme. Ci sono presidi, insegnanti, sindacalisti, che esprimono preoccupazione per una modifica che metterebbe i bambini in non si sa quale imbarazzo. Presidi, insegnanti e sindacalisti, che in molti casi sono cresciuti al suon di voti fin dall'elementare, come del resto la gran parte della nostra attuale classe dirigente, leader di partito, grandi manager, intellettuali, imprenditori, che non sembra abbiano avuto l'infanzia devastata dall'impatto con il 5 in matematica o il 7 in condotta. Per tutti loro, quelli che hanno fatto gli elementari dalla fine della guerra agli anni 70, i giudizi espressi in parole erano limitati alla valutazione di prove di secondaria importanza. I compiti a casa? Qualche esercizio non decisivo realizzato in classe? Nel laconici, bene, bravo. Fino al livello più basso, il visto, quasi sempre sintetizzato di una grande V maiuscola tracciata dalla maestra con la matita rossa, semplice testimonianza che l'insegnante aveva controllato l'esecuzione dell'esercizio senza trovarci interessanti elementi di valutazione. scarsissimo, quindi, anzi, quasi nullo l'interesse dell'alunno fa i giudizi espressi a parole. Ma torniamo a oggi. Quanto ci può mettere un vivace ragazzino del terzo millennio a capire che con il 6 si è promossi e con il 5 no? E che a prendere 8 è decisamente meglio che prendere il 4? Chi ha letto le allucinanti istruzioni di uno qualsiasi dei videogiochi utilizzati con disinvoltura dalle nostre creature sa che i bambini di oggi non solo hanno fulgoranti capacità di apprendimento, ma sono anche abituati a confrontarsi ogni giorno con il concetto di punteggio e con l'idea di vittoria e di sconfitta giocate proprio sul filo dei punti ottenuti. Meglio pensare ad altro, porre altri problemi e altre preoccupazioni, piuttosto, vale la pena di fare una raccomandazione agli insegnanti. nel dare i voti almeno ai più piccini limitatevi alla matematica elementare modulate bene e pure i giudizi con l'aggiunta dei mezzi punti concedetevi l'uso di qualche più o meno ma fermatevi lì per scoprire che è anche possibile prendere dal 6 e mezzo al 7 meno e per capire che nessuno sa il perché dal 5 al 6 è meglio il 5 e mezzo avranno più tempo avanti alle superiori.